L'interporto Quadrante Europa aumenta la produzione di energia pulita, 70.000 metri quadrati di tetti saranno ricoperti da impianti fotovoltaici. Un tetto d'oro da 70.000 metri quadrati. La nuova centrale solare di AGSM si svilupperà sulla copertura di 11 palazzine del centro spedizionieri. Siamo all'interporto Quadrante Europa. Costo dell'impianto 12 milioni di euro. Produrrà 3,5 megawatt di energia pulita pari al fabbisogno di 1.500 famiglie. Sommando quello della Verona Mercato già realizzata e il divenendo Volkswagen Group, quindi aggiungendo 1,6 megawatt, 2,5 megawatt, andremo a realizzare qualcosa come circa 8 megawatt in Quadrante Europa. Un'energia pulita, laddove c'erano dei capannoni con dei tetti che non venivano utilizzati. La forza dell'impianto è quattro volte superiore a quella dello stadio Bentegodi. Eviterà l'emissione di 1.800 tonnellate di anidride carbonica. Sarà pronto entro l'anno. AGSM nel prossimo consiglio di amministrazione approverà il piano strategico per le energie rinnovabili. Sul fotovoltaico abbiamo il progetto di aderire a quella iniziativa della comunità europea e proporci soprattutto con gli enti pubblici per quanto riguarda la copertura delle grandi superfici ma anche i nostri clienti. La sinergia tra GSM Comune di Verona e Consorzio ZA e Rafforza, l'impegno nella scelta del fotovoltaico per la tutela ambientale che vede la nostra città tra le prime in Italia. La somma di superfici come i tetti delle scuole, degli impianti sportivi, stiamo studiando un progetto sulla copertura per esempio dei parcheggi dello stadio. Sono decine, comunque migliaia e migliaia di metri quadrati che potrebbero essere utilizzati come campi fotovoltaici.